Anche Como avrà la sua giornata della memoria e dell'impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, occasione voluta da Liber, associazioni in nomi e numeri contro le mafie fin dalla sua nascita nel 1996. Ci sarà una manifestazione nazionale a Foggia, ci sarà una manifestazione regionale a Mantova la mattina del 21 marzo, territori che sono al centro di fenomeni davvero preoccupanti nell'ultimo periodo. A Como abbiamo voluto organizzare una piccola manifestazione con un piccolo corteo che andrà da portatore a Piazza Duomo. Alle 19 di sera a Piazza Duomo ci sarà la lettura condivisa e partecipata dell'elenco dei nomi delle vittime di mafia. Vittime innocenti delle mafie, cioè persone che senza colpa alcuna sono scomparse, sono venute a mancare per la violenza mafiosa, di qualunque tipo essa sia. Verrà ricordato tra i nomi delle oltre 900 vittime anche quello di una giovane rapita e uccisa nel Comasco oltre 40 anni fa. Una ragazza che è Cristina Mazzotti che negli anni 70 è stata rapita a scopo estorsivo nella zona di Erba. Il rapimento poi è finito tragicamente. Noi siamo vicini alla memoria di tutti. L'elenco dei nomi delle vittime porta nomi famosi e celebri, nomi di impegno e anche nomi di persone che assolutamente senza colpa si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, coinvolti in disegni più grandi di loro. Quindi anche la storia di Cristina, che è una storia di una persona che ha subito senza colpa alcuna un destino tragico, la vogliamo condividere e difendere e far conoscere al nostro territorio.